I finanziari della compagnia di Alghero hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società che opera nel settore dell'intrattenimento noturno e hanno scoperto un'evasione fiscale su un ammontare di 300.000 euro. L'impresa, nata nel 2015, non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, nonostante, a seguito degli accertamenti e attraverso l'esame degli scontrini fiscali emessi tramite il dispositivo elettronico POS, si è emerso che avesse un consistente giro d'affari. Nel corso dei controlli, la Guardia di Finanza algherese ha anche contestato al titolare la presenza di una lavoratrice in nero. L'evasione di Liva è pari a circa 30.000 euro, risultato ragguardevole soprattutto se rapportato alla realtà economica della zona. L'attività di servizio è un argomento, si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione, posto in essere a tutela della cittadinanza, della leale concorrenza del libero mercato, a garanzia di tutti i soggetti economici virtuosi che quotidianamente operano nella circoscrizione della compagnia di Alghero, nel pieno rispetto delle norme e della legalità.